Skype, il sistema che permette di videochiamarsi gratuitamente in rete, è sempre più usato in tutto il mondo. La novità è adesso che c'è un sito che permette anche degli incontri del tutto casuali. Vedete quali nel servizio di Luciana Parisi. Ladies and gentlemen, chat through that. Si può incontrare una così, bionda, carnosa, sorridente. Ma dall'altra parte dello schermo puoi imbatterti anche in facce meno rassicuranti. Nel mondo virtuale di internet, come nella vita vera, bisogna essere fortunati. Ma di fortuna ce ne vuole davvero tanta se si vuole giocare con chat roulette, l'ultima invenzione in materia di social network. Questa pagina web ti permette di entrare in comunicazione con altri utenti in tutto il mondo, tutti rigorosamente anonimi. Tu vedi loro, loro vedono te, se la visione è piacevole ti soffermi a parlare, altrimenti, premendo il tasto next, passi alla faccia successiva. Avanti un altro. Il sito, inventato da un ragazzo russo nel giro di pochi mesi, ha raccolto un milione di utenti solo negli Stati Uniti e 48 milioni di contatti. Per la maggior parte, ventenni. E ha attirato l'attenzione anche del New Yorker, una delle riviste più prestigiose in America, che gli ha dedicato un lunghissimo reportage, osservando il mondo degli adolescenti che su internet sfida il caso. Sous-titrage Société Radio-Canada